Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time. Dalla necessità di adeguamento di carattere regionale, io vorrei fiondarmi direttamente alla questione Palermo, ovvero questi dati che riguardano la città di Palermo, voi li acquisite dalla RAP o siete voi? Sì, noi attualmente li acquisiamo dalle centraline che per quanto riguarda la città di Palermo sono quelle della oggi RAP ex AMIA, poi noi ne abbiamo 12 nostre in tutta la Sicilia, ma per la città di Palermo noi attualmente non le gestiamo, stiamo facendo la gara, nel futuro le gestiremo tutte noi. Quindi a questo punto questi dati che avete riceputo dalla RAP danno da pensare? C'è veramente questo livello allarmante di smog in città sui dati che avete interpretato voi arrivati dalla RAP? Ma guardi, ci sono dei problemi che sono abbastanza seri, che riguardano in particolar modo il traffico della zona del porto, come era stato sollevato anche nella trasmissione, e bisognerebbe intervenire perché per esempio se viene elettricata la banchina del porto a questo punto le navi non stanno ferme come accade oggi con tutti i generatori e motori accesi. Quindi, volevo precisare, il problema dell'area del porto riguarda, quindi in tutta quella zona là, riguarda prevalentemente le navi che attraccano, le navi da crociera, perché il porto di Palermo non si è ancora attrezzato con i generatori di corrente che permetterebbero alle navi di sostare in acqua. Cioè con l'elettrificazione delle panchine, bisogna avrebbe elettrificare le panchine in modo tale che nel porto è previsto anche alle direttive europee. Non è che è una cosa che è obbligatoria. Cioè è competenza del Comune o dell'autorità portuale? No, penso che le competenze sono varie, l'autorità del Comune, ma insomma l'ente preposto è l'autorità portuale. Naturalmente, naturalmente. Quindi, posto il problema della... poi altri rilevamenti preoccupanti... E poi lì c'è anche quella zona, lì c'è anche quella zona, lì è particolarmente sensibile, che arriva anche alla zona dei Leoni, perché lì è il disinerario di tutti i tire che provengono dalla Sicilia orientale e che si devono imbarcare a Porto di Palermo. E chiaramente. Che fanno tutto questo. Quindi via Monte Pellegrino e Francesco Grispe. Quella è abbastanza... Come un'altra zona critica è quella di via Evangelista Di Plasi, che è già... Ah, esatto, nella parte alta, nella parte alta della città, là c'è l'alta concentrazione. Diciamo, sono tutte zone... E noi, gli storamenti, guardi, gli storamenti che sono stati registrati, che vanno oltre i 35, che sono tollerati, sono stati registrati in particolari periodi in queste zone, che sono alcune zone che sono abbastanza critiche. Certo. Poi, nel focus che abbiamo fatto noi, e che presenterò io alla Regione, in cui da commissario ad acta presenterò anche delle soluzioni che chiaramente la Regione dovrà scegliere e adottare, e poi da fare le direttive ai comuni. E i comuni, anche loro, avranno la discrezionalità sulle varie misure adottate. Cioè, non è che noi o io do la soluzione. No, chiaramente, certo. Noi esaminiamo, facciamo un piano in cui diciamo che naturalmente ci sono alcune cose. Per esempio, già Palermo, obiettivamente, negli ultimi anni molte cose le ha fatte. Bene. Cioè, il tram è obiettivamente agevola, l'aumento delle piste ciclabili, il car sharing, l'aumento del rapporto pubblico. Le misure queste sono, non è che c'è nulla di aumentare. Noi abbiamo, tra l'altro, una fortuna rispetto alle città del nord, che, dato il clima, non abbiamo il grosso inquinamento dato dai riscaldamenti, perché i nostri riscaldamenti non abbiamo dei problemi delle città del nord, e in più abbiamo molte pompe di calore che quindi consumano parecchie energie elettriche e lì un altro problema è questo. Però inquinano meno, però inquinano meno. Però inquinano meno. Però abbiamo i forni, pare che anche i forni dei panifici, insomma, siano un fattore inquinante. Certamente, i forni a legna, i forni a legna, con i cometti, come detto, di casa. Non c'è dubbio che è noto che la combustione produce. Però anche là, a parte, diciamo, si potrebbero utilizzare, utilizzare i filtri, a parte che si potrebbero, alcuni forni, trasformarli a metano. Dico, le soluzioni ci sarebbero. Esatto. O non autorizzano. Per esempio, molte città europee non autorizzano più in centro città nuovi forni a legna. E' vero, per evitare proprio questo. Quindi, tornando... Poi io dico personalmente, non è che io la pizza mi piace. Ebbè, certo. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. È fatta a forno a legna. Non vorrei passare per... Per carità. No, no, assolutamente no. Però, quindi, tornando all'argomento. Quindi, tecnicamente, secondo quello che le risulta, questi sono fondamentalmente i problemi. In realtà, in centro città, questa emergenza, questa pericolosità dell'area, mi pare che non sia stata rilevata. No, no. Pericolosità sicuramente no. È un termine non adatto. È chiaro che, diciamo, ecco, la ZTL è una di quelle misure che possono aiutare la riduzione. Esattamente, esattamente. Quindi voi avete dato... C'è sempre le regioni pedonali che aiutano. È chiaro. È chiaro. Diminuendo il traffico. Diminuendo il traffico, sarà sintomatico. Certo. Però, dico, il Comune, anche quando ci sarà il piano e la regione darà le direttive, le linee guida, il Comune avrà sempre una sua discrezionalità sulle misure locali. Certo, naturalmente. Ci mancherebbe altro. Ecco, io no. Ecco. Per carità. Quindi voi non avete dato ulteriori dati al Comune di Palermo? No. No, 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 io ripeto. Io spero il mese prossimo di fare anche il focus su Catania. E poi, diciamo, le città più grandi. Certo. Palermo, Catania e Messina, naturalmente. Magari divulgare i dati. Noi li abbiamo mandati al Comune proprio per agevolarlo, aiutarlo, insomma, in questo momento. Certo, di difficoltà per capire cosa fare, naturalmente. Benissimo. Benissimo. Noi la ringraziamo come sempre. Quindi ci sembra abbastanza chiaro, Tancredi, che, giusto per riepilogare, il focus risale al 2014. Le informazioni che all'ARPA arrivano dalle centraline gestite dalla RAP. Alcune di queste, secondo alcuni studi fatti dalla RAP, non sembrano essere tutte completamente funzionanti al 100%. Alcune pare siano scadute o abilitate. Mi dà conferma di questo, dottor Ricata? Sì. Alcune, per esempio, le polvere sottili, le PM2,5, non lo rilevano. Non lo rilevano. E sono pericolose le PM2,5 queste qua? Perché sono quelle più sottili ancora. E sono quelle più sottili. Noi però abbiamo i mezzi mobili. Possono monitorare. Noi abbiamo, già l'avevo accennato, abbiamo da quest'anno, abbiamo tre mezzi mobili che sono dedicati, acquistati per l'area a rischio industriale, ma che sono all'avanguardia in Europa e che praticamente monitorizzano tutti i parametri. Ah, nel senso, perfetto. Tutte le varie cause possibili. Mi pare perfetto. Noi come sempre la ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo una buona giornata, un buon weekend prossimo. Grazie al dottor Riccato di Bocine. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time.